giovedì 21 febbraio come tutti i giovedì team WOD team da due quindi vi dovete mettere in coppia per fare che cosa per fare un four time 400 metri run 50 front squat 50 burpees box jump poi ancora 400 metri run 50 front squat 50 burpees box jump 400 metri run 50 front squat 50 burpees box jump e come cash out 400 metri run la corsa la farete tutti insieme le spiegazioni come al solito sulla grafica insieme naturalmente a scalature pesi tutto il resto ci vediamo domani venerdì per l'ultimo WOD della settimana